Ciao a tutti, sono Phil Grondona, ho 22 anni e nella mia vita non ho mai fatto un lavoro vero. Per questo, come ormai dovreste sapere, ho creato un podcast in cui in ogni puntata posso diventare lo stagista di alcune e delle persone che stimo di più per riparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Esce una nuova puntata ogni lunedì alle 14, perciò mi raccomando seguiteci su tutte le principali piattaforme di streaming, YouTube, Spotify, Apple Podcast, qualunque piattaforma vi venga in mente, per non perdervene neanche una. Questa settimana sono lo stagista di un ragazzo che, pensate, ha più o meno la mia tazza, è un anno in meno di me, ha iniziato qualche anno fa a fare video sul web e oggi è diventato uno dei volti più importanti e affermati della nuova generazione, a tal punto che il grande Fiorello l'ha scelto come personaggio del cast fisso del suo nuovo programma, Gabriele Vagnato. Ciao Gabri! È bellissimo essere qua, lo sai? Sì? Sì, non è ancora iniziato. Sono quelle cose di rito, sai tipo in tv che arrivano tutti e si salutano, che bello, e si sono visti tre secondi prima. La stessa cosa, ci siamo visti prima, quindi… Dobbiamo far finta di essere qui. Sì, sono molto felice di essere qua. Come stai? Come va la vita? Dove è andata in tutti questi mesi in cui non ci siamo visti? Benissimo, benissimo. Perché non ci siamo visti? Benissimo perché… No, scherzo, scherzo. Sempre un piacere incontrarti. Queste sono le classiche cose proprio che si dicono… Convenevoli. All'inizio, sì, per rompere il ghiaccio. Ma ne parlavo anche con un altro ospite qualche puntata fa, con un nostro amico comune, anzi con un amico che mi hai presentato tu e cioè Ale della Giusta. Maestro. Maestro che salutiamo. Con Ale si parlava proprio di quanto sia difficile, non so se sei d'accordo, iniziare una di queste cose. È vero. Una volta che sei partito vai, però i saluti iniziali sono sempre traumatici. È vero, ma qualsiasi cosa all'inizio è terribile, no? Anche quando sei a cena con persone, tipo gli amici degli amici che senti super a disagio, magari conosci una persona sola e poi o rompi il ghiaccio subito oppure è una serata terribile. Passi tutta la sera, esatto, a guardarti e non guardarti. Sì, sì, poi quelle persone, se le rincontri e non le saluti, cioè tipo fai, ci siamo visti quella volta, quella genera. Perché non vi siete mai presentati. Bravo, sì, sì, non le saluti, quindi non le conosci. Però io non ho la teoria su questo argomento, ha fatto un cattivo lavoro al padrone di casa, cioè perché se io faccio il compleanno per dire invito a casa mia delle persone e ci sei tu, lui e qualcun altro e voi non vi conoscete tra loro, è compito mio fare tutte le presentazioni. Dici, fai quelle cose, lui è Gabriele, venite. Lui e Gabriele fa questo, lui e lui, e poi voi potete essere amici, comunque. No, Gabriele, sono molto contento di essere il tuo stagista per un giorno perché tu hai un percorso molto particolare, nel senso che hai iniziato facendo una cosa che tante persone fanno da anni, cioè il content creator, lo youtuber, tante persone provano ancora a fare, però secondo me sei uno dei pochi che hai riuscito a differenziarsi, no? Dici, addirittura. Beh, secondo me sì, è un periodo bellissimo. Fammi complimenti. No, è un periodo bellissimo per te, Fiorello ti ha voluto nel cast del suo nuovo programma su Rai 2, lo salutiamo, grande fiore. Insomma, quindi la prima domanda che voglio chiederti è se quando qualche anno fa hai iniziato in Calabria a fare tutto questo, l'ambizione c'era già? Oppure era solo un bel divertimento e non pensavi affatto che un giorno sarebbe potuto diventare un lavoro, tutto quello che sta diventando adesso? Bella domanda. Nel senso che, allora, a me sembra ieri, anche perché poi se parli con persone che fanno questo lavoro da 40 anni, effettivamente 5 anni, 6 anni fa e ieri, no, non me l'aspettavo assolutamente, ma non mi ha, cioè ho capito che un segreto per non rimanere delusi in generale è non aspettarsi niente, no? Io ho aspettative molto basse di solito, quindi mi vivo le cose che vengono impegnandomi sempre tantissimo ed essendo anche a volte troppo perfezionista nelle cose che faccio, però mi ha portato sempre bene questa cosa qua, no? Nel senso che, poi, io dico sempre che il talento, è un parolone, no? Il talento, diciamo che uno è più bravo di un altro, semplicemente capisci, cioè il segreto è capire gli errori che fai e correggere senza essere troppo egocentrico e dire, ah no, io faccio tutte le cose perfette e nessuno mi può dire che cosa sbaglio, nessuno mi può dire, ah no, questa cosa, falla in quest'altra maniera qui, ecco, poi sicuramente arrivano centomila consigli, no? Devi essere bravo a selezionarli, però assolutamente, una cosa che mi ha, cioè che ho imparato è correggere il tiro, senza tirare dritto, senza guardare nessuno, ecco. E forse è stata la cosa che, a differenza di altri, non lo so, mi ha portato poi ad avere contatti con personaggi che mai nella vita mi sarei aspettato. Cioè tu dici, non ti sei mai fatto problemi a metterti in discussione, a dire, magari ho fatto una cosa che era un po' una porcata, però posso migliorarla, farla meglio. Sì, sì, perché di porcherini ho fatto tanto, no, è vero. Mentre tante altre persone invece potrebbero dire, no, io sono il numero uno, questa cosa è la cosa più figa del mondo e quindi è per quello che non vanno poi avanti. Molte volte, quello che facciamo, no? Tante persone hanno paura di mettersi in discussione, no? Perché se ti metti in discussione e dici, cacchio, allora non so fare sta cosa qua. Invece il segreto, secondo me, è mettersi proprio in discussione senza star lì a menarsela con delle cose folli, perché molte volte succede che, ah, no, io questa cosa non la faccio perché... Secondo me serve tutto, no? Tutto fa brodo e anche una situazione difficile o una porcheria nella quale mi sono ritrovato magari, o magari che ho fatto io stesso. Magari mi capita adesso di riguardare quello che ho fatto in passato e di dire... Qual è ad esempio una cosa che proprio non ti piace? Cioè che guardando la ora dici questa cosa proprio l'ho sbagliata? Allora, io ho fatto questo format che poi mi ha avviato su YouTube, che si chiama L'Interrogazione. Come no, me lo ricordo. Che è un format, lo spiego per i tanti che non l'avranno guardato giustamente, era una sorta di late show ispirato un po' all'Eric Andresho, a Between Two Furns di Zaggala Fianakis, dove io mettevo a totale disagio l'ospite con domande fuori luogo, con atteggiamenti un po' a comprare. Ah, sì, erano un po' l'intervista al contrario, no? Di solito persone brave che sanno fare il suo lavoro, come Phil, ti mettono a proprio agio. Esatto, era il contrario. Far sentire non a proprio agio l'ospite. Insomma, ho fatto tre stagioni, tra virgolette, nel senso tre tornate di registrazioni e ogni tornata di registrazioni cambiavo qualcosina, no? Ma piccole cose. Nelle prime tre tutto perfetto. Poi ho voluto fare la quarta, ho detto facciamola più figa, facciamola in grande. Ho cambiato un po' il registro, ho detto voglio farlo in una maniera diversa, un po' più seria, prenda le sembianze proprio di un late show, no? Mentre prima era soltanto intervista rapida, veloce. Ho detto costruiamo qualcosa, è stato un disastro. È stato un disastro perché quel format lì funzionava in quel... Ho rotto il microfono. Quel format lì funzionava in quel modo e le persone si erano affezionate ormai a quella cosa lì e io mi sono voluto avventurare in questa cosa qua e ho sbagliato. Adesso riguardando, dico, è una porcheria oggettivamente. Cioè è carino ma non è all'altezza di quello che ho fatto. Cioè dici la forza di quel programma era anche la semplicità che magari prima te non piaceva. Era bravo, sì, a volte le cose semplici sono le più belle, le più godibili, le più fruibili. Quindi a volte ci impeleghiamo, ma perché? Perché lì magari hai quella presunzione mentale di dire cavolo devo fare una cosa più figa, le persone mi devono vedere come una persona più intelligente di quello che sono e lì fessi la merda di solito. Ci hai dato anche un ottimo consiglio per quando noi faremo la quarta stagione di questo podcast. Perché se ci arriveremo, siamo all'inizio della prima, ne deve passare di acqua sotto i ponti. No, però è bello che tu abbia anche l'umiltà di ammettere questa cosa. Non tutti lo farebbero, forse anche per questo poi che ti metto in discussione. Mi ha incuriosito una cosa che hai detto prima, non voglio scadere nella filosofia spicci, sembro Galimberti che fa i discorsi senza averne i titoli. Quando hai detto, io ho sempre avuto le aspettative molto basse, quindi non mi sono mai fatto film mentali eccetera. Però come si concilia questo modo di essere con comunque l'ambizione, che è una cosa che tu immagino inevitabilmente hai, credo faccia parte della vita di una persona che sta ottenendo i risultati che stai ottenendo tu. Cioè come si gestisce questa linea sottile tra le due cose? Ma allora, io ho questo sogno da quando sono piccolo di voler fare questa roba qua. Quindi non volevi fare, non eri un bambino che diceva voglio fare il vigile del fuoco, altri lavori? No, volevo fare il dentista da piccolo perché mi dicevano che si guadagnava un sacco di soldi, no? Si guadagna un sacco di soldi, allora io ho detto voglio fare il dentista. Però hai detto, con la tv se ne possono guadagnare ancora di più. Sì, poi ho scoperto che non è vero. No, in realtà poi appena ho maturato quello che ero, quello che mi piaceva essere, a 13 anni praticamente, la domenica ho iniziato a fare queste imitazioni dei miei parenti a casa, no? Sono calabrese, quindi tanti parenti, non pochi, non due, tre, cento probabilmente. Cioè tutti i nostri parenti sommati sono comunque i miei dei tuoi. Esatto, esatto, ci sono 15 persone qua dietro, i parenti di 15 persone sono i miei. Insomma, ho capito lì che mi piaceva far ridere la gente, mi piaceva avere quelle attenzioni su di me. In quel momento ho detto, cavolo, a quei tempi c'era Zelig, Colorado, che erano il must della comicità italiana. Ho detto, cavolo, io voglio fare quella roba lì, no? E poi ho iniziato su YouTube, piano piano, ma senza avere una direzione all'inizio, no? Ho fatto quattro anni dove caricavo, però il mio sogno era quello lì. Cioè io sapevo il punto d'arrivo, so ancora adesso perché non ci sono arrivato, però non sapevo come arrivarci, no? E quel come arrivarci, ma molte volte tanti che fanno questo lavoro qui non sanno neanche il punto d'arrivo, no? Mi capita tantissime volte. Ecco, quello di base è un errore, no? Se tu non sai dove arrivare, non sai come. E il punto d'arrivo è una cosa tipo dire, farò Sanremo, nel caso dell'attore vincerò un Oscar. È un obiettivo di quel tipo lì? Ora, questi sono molto ambiziosi, però dico una cosa del genere. Sì, all'inizio era soltanto voglio essere visto come un comico. Cioè voglio di lavoro, dire che cosa fai, guadagno da vivere, mangio grazie a questa roba qui, no? Poi all'inizio volevo fare soltanto stand-up perché mi piaceva un sacco la stand-up americana. Dico, cavolo, voglio diventare come questi idoli americani, li vedi in questi palazzetti giganteschi. Fenomeno e cultura che in Italia c'è di meno, molto di meno. È più una nicchia la stand-up qui. È più una nicchia, sì. E poi ho capito piano piano che magari la stand-up non è proprio il mio. Oppure non mi piace rinchiudermi in una roba, no? Perché io faccio una roba e dopo cinque, sei mesi mi annoia. E quindi, proprio per questo, poi ho detto, mi faccio portare da questo fiume che è le cose che ti succedono in una città come Milano, da quando mi sono trasferito qui. E se mi viene in mente un'idea, mi piace, ho delle… Cioè, come se avessi delle mie linee guida in testa, no? Che non è che sono scritte, cioè ho scritte da qualche parte, però… Certo, non è una strategia fatta a tavolino. Sì, so quello che mi piace, no? Quello che mi piace vedere e cerco di renderlo mio. Poi, sempre di più, capisco di avere un mio modo di fare, no? Un mio modo di essere. Perché all'inizio magari replichi personaggi storici che vedi… Sì, all'inizio cerchi di rubare il più possibile. Certo, ma penso sia quello che fanno tutti, nel qualsiasi lavoro. Se tu vai a lavorare come impiegato, cerchi di rubare dal tuo collega che c'è lì già da dieci anni. Quindi questa cosa mi ha aiutato un sacco e piano piano sto sentendo sempre di più di avere un mio tono di voce, no? Lo chiamano, ton of voice. Tono of voice. Noi americani lo chiamiamo così. Tra l'altro… No, scusa, non volevo interrompere. No, no, e quindi, niente, ecco, queste aspettative basse in realtà sono… Perché io sono sempre molto negativo, no? Cioè, non dico mai, cavolo, ho fatto una figata, ho spaccato. Sai quelli che ti incontrano? Cioè, sto mese abbiamo spaccato. Che poi non è mai così, non è veramente mai così. Cazzo spaccato. C'è una frase bellissima di David Letterman che ho sentito in un podcast recentemente. Adesso no, la dirò malissimo, non me la ricordo bene, però dimmi se ti ritorna, cioè se descrive bene questa situazione. Lui ripensando agli anni in cui lui faceva l'Aid Show in America, lui dice, sulla percezione che tu hai di te stesso, lui dice, solitamente gli show che tu pensi siano belli non sono mai così belli e gli show che tu pensi sono brutti sono molto peggio di come tu livi. Questa bella. Ed è una frase molto bella. No, ti capisco perfettamente perché capisco bene che cosa vuol dire magari fare una cosa che agli occhi degli altri è bella, che però per te non è mai abbastanza. Ad esempio, prima mi raccontavi di come ti poni tu rispetto alle cose che per te hai sbagliato, che comunque oggi faresti in modo diverso. Riesci però a guardare le tue cose vecchie, oppure ti imbarazza, ma anche le cose che non sono necessariamente mal riuscite, magari cose che altri guardano e pensano che siano bellissime. Allora, di base non le riguardo, appena sono state fatte, no? Cioè, una volta che è fatta, via. La metto lì perché se no mi autoflagello tutto il giorno, sto lì e dico, cacchio, questa cosa la devo fare meglio. Dopo un po', no? Dopo sei, sette mesi riguardo quella cosa e dico, cavolo, era completamente diversa da come la farei adesso. Perché poi a questa età soprattutto ho capito che sei, sette mesi sono tantissime, no? Tu scopri magari in sei, sette mesi tantissime robe. E quindi magari alcune cose le avrei fatte diversamente o sarei stato più attento a particolari. O magari sono diventato più bravo magari a fare una roba, semplicemente sono più sciolto e quindi lo noto, no? Però sì, di base, come ti dicevo, sono eterno insoddisfatto. Nel senso che non gioisco a vedermi, piuttosto mi giudico, no? Quindi, ma capisco che è una cosa anche, infatti, quando ho visto che personaggi davvero, cavolo, stellari, ecco, uso questa cosa qua, usano questa tattica, no? Cioè, questa persona con cui ho lavorato che riguardava delle sue cose vecchie e si annotava tutte le cose che aveva sbagliato. Cioè, aveva un quaderno dove lui diceva, ah, qui non ho guardato in camera, qui ho sbagliato i tempi comici, qui ho, dico, cavolo, cioè, se questa persona qui, che è una persona brava a fare il suo lavoro, fa questa cosa qui, dico, cavolo, allora, cioè, non è strano che io mi riguardi e dica, ah, che schifo. Certo. Cioè, devi usare quegli errori per migliorare il tè di adesso, ecco, quello sì, quello devi fare. E qual è un errore? Che secondo te tantissime persone che fanno quello che fai tu, fanno. Il più comune, il più, cioè, anche perché immagino, visto che con lo stagista vorremmo dare dei consigli attraverso le storie degli ospiti a tutti coloro che magari oggi vorrebbero fare quello che fai tu, per questa domanda bisogna bere, non è alcol comunque, è solo caffè. Una cosa che si potrebbe facilmente evitare, che però fanno in tanti, secondo te? Aspetta, aspetta. Mi piace il modo in cui stai prendendo tempo per non rispondere alla domanda scomoda. No, in realtà, guarda, allora, io ho capito anche questa cosa qua, che non guardo tanto agli altri, no? Non più. Prima ero molto, cioè, stavo attento agli altri, guarda questo cosa ho fatto, no? Anche tra amici, mi paragonavo un sacco, no? Poi ho capito che quella cosa lì non serva a niente. Cioè, se un'altra persona fa una cosa bella, sono felice, se fa una cosa brutta, mi dispiace, perché magari lo reputo un bravo content creator, in questo caso comico. Quindi, non lo so, sicuramente uno degli errori più grandi è, ma al di là dell'artisticità, si può dire artisticità? Sì, si può dire, si può dire. Artisticità di una persona è sicuramente la mancanza di umiltà, tantissimi, come ti dicevo prima, no? Tantissimi sbandierano questo, ah, io sono incredibile, guarda quanto sono figo. E poi si vede in quello che fanno, no? Si vede perché magari fanno degli errori grossolani, grossolani, soltanto perché non si sono messi in discussione. Mi stanno chiamando le persone di cui sto parlando. No, in realtà è Biggio. Ah, ok, ok. Che saluta. Doveva chiamarmi, però lo chiamo dopo. Vabbè, se vuoi rispondergli in live. Aspetta. Vai. Fabri, sto facendo un'intervista, ti posso chiamare dopo? Va bene. No, è un podcast, con un mio caro amico. Va bene, ciao Fabri. Ciao, 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 ciao. Ci ha palesemente insultato. No, ha detto, ma con chi stai facendo l'intervista alle sette di sera? Che è una domanda più che lecita, è una domanda. Però stavamo parlando di umiltà e questo dimostra la tua umiltà. Cioè che tu anche alle sette di sera, dopo una lunga giornata di lavoro, sei qui. No, non esageriamo. No, vabbè, questo è divertimento. Cioè io ho piacere a… ecco, queste cose qua non mi implicano un… Cioè di cacchio sto lavorando, no? No, mi fa piacere venire qua, parlare. Magari esce qualcosa di positivo, sicuramente esce qualcosa di positivo. E quindi non è quello il lavoro. Il lavoro magari è più, sai, quando hai delle cose che devi fare per forza in quel momento, le cose più burocratiche, ecco, quelle mi rompono proprio le palle. Immagino, una cosa però che io ho notato, ci conoscendo da qualche anno nel tuo modo di lavorare, che magari le persone non notano, è la tua grandissima disciplina, secondo me. Nel senso che sei molto professionale in quello che fai. Io ti sto copiando un'ora. Prima ha messo la gamba così, poi ha messo la gamba così. Ecco, è vero che… Allora, voi non lo potete capire, perché sembra un comodismo, ma è difficilissimo. È difficilissimo stare qui. Più difficile degli sgabelli di Barbara D'Urso. Hai provato anche quelli, perché… No, però immagino, guarda, aspetta, cerco di trovare una posizione. Se vuoi puoi stare così, io non ho mai trovato in tutte queste puntate, puoi stare anche con le gambe incrociate. Aspetta, vai, vai, scusa, mi siete interrotto. No, no, dicevo che nel tuo lavoro tu sei una persona con grandissima disciplina, quindi volevo che raccontassi un po', ad esempio, tu adesso su YouTube, tolto il lato televisivo, poi ci arriviamo, porti un video a settimana. Ci provo, ci provo. Più o meno, ok, però video fatti molto bene in cui tu segui persone in avventura, cioè fai foglia di ogni genere. Sicuramente seguite Gabriele, se non lo seguite ancora andate a vedere quello che fa. Non siete obbligati. Mi racconti il processo creativo, cioè la giornata tipo di quando lavori a questi video. Come ti viene l'idea? Lo scrivi oppure prima giri e poi dopo cerchi di dare una struttura, un ordine a quello che hai girato? Come funziona un po' il tutto? Ma di solito per YouTube quello che sto facendo in questo momento è più vita vera, no? Quindi tu parti da un'idea, per esempio giorno di prova, che è il format che faccio dove è un po' come… Un po' tipo lo stagista, vero, vero. Sì, in modo più in giro, con persone, con professionisti che fanno il proprio lavoro, paparazzo, oddio, investigatore privato, investigatore forense, ho scoperto che c'è questo lavoro. E tanti altri lavori li seguo per un giorno, mi prefisso una missione e cerco di portarla a termine, no? Ecco, in quel caso ho un canovaccio, parto dall'idea, dico voglio fare questa roba qua… Poi vai e giri, però. E poi vado, sì, 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 e giro. E poi montaggio a giù. E i tuoi video li monti da solo ad oggi? I miei video li monto insieme ad altre due persone, con una sorta di struttura, no? Ho cercato di delineare, c'è una persona che mi fa il prima, io faccio il mezzo e poi lo chiudiamo insieme, insomma. Quindi è difficile trovare delle persone che riescano ad entrarti nella testa, soprattutto persone giovani, no? Anche perché il montaggio è una cosa molto personale, immagino. Infatti quando sento di persone che fanno montaggio insieme, ma credo anche quando si tratta di film, documentari, non riesco mai a immaginarmi la scena concreta in cui ci sei tu. Cioè, mi immagino, sai come quando all'elementare facevi l'ora di informatica con il tuo compagno di classe, c'eri tipo uno che usava il mouse e l'altro la tastiera. Cacchio. Mi immagino una scena tipo così. Ma di base, perché a quest'età, no? Lavorando con persone che hanno la mia età, non sei ancora tanto formato, quindi vuoi sperimentare, no? E quindi sei portato a fare... E questa cosa, se tu devi entrare nella mia testa, è difficile, no? Allinearsi, trovarsi. Per fortuna sono riuscito a trovare persone che dopo un anno, un anno e mezzo di lavoro, adesso ci capiamo bene. Però trovare nuove persone, perché poi è quello che mi servirebbe, no? Ampliare la struttura. Perché il problema non è registrarli video, non è trovare le idee per farli, è finalizzare il tutto e mettere in ordine le cose che devi fare durante il giorno. Nel mio caso io faccio tutto, infatti è strano anche come cosa... Una persona che fa TikTok, YouTube... Beh, è un impegno notevole. Stavo ruttando. Te ne sei accorto, se ne sono accorti tutti. Non me ne ero accorto, però ora che me l'hai detto... Vabbè, mettiamoci luce. Insomma, è più difficile mettere in ordine le cose che farle. Questo sì. E ad esempio adesso che fai tutte queste cose, YouTube, eccetera, come te la cavi a ordine della tua vita personale. Perché ad esempio io faccio un'estrema fatica... È vero che io, ad esempio, per dire, quando la radio, quella è una cosa che devi fare, hai dei giorni prefissati e non è un impegno che cambia. Però in lavori come il tuo, in cui hai tantissimo tempo che puoi giostrarti come vuoi, io credo perderei tantissimo tempo. Come fai a dare un ordine a tutto ciò? Perdo tantissimo tempo. Ma di base... No, perché se lo perdessi non otterresti i risultati che stai ottenendo. Invece io percepisco grande disciplina dai contenuti che porto. Sì, sicuramente... Cioè, come fai a import? Sono molto... Mi autoimpongo, ma perché mi piace proprio. Cioè io ho... Sai quando, non lo so, magari... Quando ero un po' più piccolo e aspettavo il sabato sera per andare in discoteca e divertirmi e spaccarmi, o aspettavi il compleanno del tuo amico per mangiarti con le pizzette, con la mozzarella staccabile. Sì, tristissime. Tristissime. Però ti divertivi, no? E aspettavi quel momento. La stessa cosa io. Quando faccio una cosa, aspetto il risultato finale. Mi impegno tantissimo per arrivare a quella roba lì. Godi il processo. Godo, bravo. Non volevo usarla, questa parola così... Che alluda a delle prestazioni sessuali. Certo, no, no, no. Godo al risultato finale, sì. Però tutti i giorni ti svegli alla stessa ora, anche nei giorni in cui cerchi di dare un ordine alle tue, darti una routine. Sì, ho molto una routine. Cerco di pianificare la settimana, la domenica, no? Di solito mi sveglio per le sette, sette e mezza. Inizio, faccio le mie cose, poi per le nove, nove e mezza parto a lavorare. In base al giorno, magari... Ecco, la cosa più difficile forse è passare da un tipo di narrazione a un altro. Soprattutto quando scrivi, no? Perché YouTube ha un tipo di trattamento, no? Cioè tu, allora, devi lavorare molto con degli esseri umani, delle persone, no? Un po' come fai tu. Devi modellarti in base alla persona che è davanti, fare delle domande, trovare delle cose interessanti per far uscire fuori il racconto e poi unirlo tutto insieme. E quindi quello è un tipo di ragionamento. Poi hai... Io ho TikTok e Instagram dove faccio fondamentalmente sketch, no? E sketch comedy... Che quindi hanno un altro ritmo ed è totalmente diverso. Che è un'altra scrittura, devi saper scrivere il comico, no? Cioè devi... È una gag quella. Allora lì ti devi mettere, ingegnare, trovare l'idea di partenza e poi scrivere i dialoghi. È una delle cose più difficili, anzi uno dei consigli che magari do sempre anche a mio fratello, che ha 15 anni. Lui non vuole fare la strada che stai facendo tu? No, non è una persona a cui piace tanto la creatività. È molto più... Cioè se a lui dici fai questa cosa qui, manuale, la fa subito. Io sono... Cioè se ci sono delle regole impazzisco, cioè devo essere molto libero. Che poi è la definizione di artista? Ma adesso non spariamo sti paroloni. No, vabbè, vabbè. Sì, creativo. Creativo, creativo. Facevo le costruzioni da piccolo. Ecco, sono quel tipo di bambino. Ok, ok. No, vabbè. No, che stavo dicendo? Stavi dicendo... Non ho memoria io. Stavi facendo... Nemmeno io. Stavi facendo l'esempio di tuo fratello che... Ah sì, che dico, cavolo, non esistono degli autori che scrivano per il web, dei ragazzi che abbiano il sogno di scrivere, no? Perché magari non tutti sono portati per stare davanti alla telecamera. Magari sono più bravi a scrivere. Ci sono tantissime persone adulte che hanno appurato questa cosa qui. Tantissimi autori bravissimi. Bravissimi. Che fanno l'artista poi. Cioè, ci sono degli autori che anzi sono... A volte valgono più dell'artista che c'è in camera, no? Assolutamente. Perché hanno proprio uno stile loro e riescono a capire bene chi hanno davanti. Ecco, non ci sono dei ragazzi giovani che sappiano scrivere bene o magari non sanno... Tu non ne hai trovati. Cioè, hai provato... Perché, pensa di sta cosa, testimoni alcuni dei ragazzi che lavorano come a questo podcast, ci siamo fatti la stessa domanda qualche giorno fa e anche io non saprei... Cioè, se domani mi dicessero per un progetto di ritrovare il tuo corrispettivo che però faccia l'autore... Cioè, se esistete scrivete a Gabriele, scrivete a noi... No, io sto cercando da sette, otto mesi, forse un anno anche, una persona che scriva con me. Soprattutto... Che però voglia fare quello. Che voglia fare quello. Perché se tu vuoi star davanti alla telecamera poi automaticamente entra un discorso di... Non è quello che tu stai cercando. Ego gentrismo, no, cioè... Ebbè, si creano delle antipatie. Perché poi in questo lavoro una delle cose che ho capito andando poi facendo il passo in tv è che i... Come posso dire? Gli equilibri sono tutto. Assolutamente. Cioè, devi stare attento a come ti poni. No, fa parte del lavoro. Perché ognuno ha una sua sensibilità. Essendo tutte persone creative, ognuno ha il suo modo di pensare. e quindi devi stare attento e devi destreggiarti un po'. Ecco, la stessa cosa magari un ragazzo giovane e... Cioè, io ho fatto un sacco fatica e quelli che ho trovato non mi hanno... non mi hanno impressione... Oltre che sono persone più grandi, trent'anni, ecco. Sì, tu dici trovare qualcuno cioè che abbia ventun'anni, ventidue anni, ventitre anni. Perché poi se hai trent'anni hai un'altra mentalità. Sì, sei comunque giovane però sono due generazioni diverse e ti ci passi comunque dieci anni. Scrivi da persone trent'anni e quindi è faticoso. Se esistete fatevi sentire. Ci siamo. Ci siamo. Gabriele è qui. Gabriele è qui. Hai citato il passaggio alla tv. Sì. In un attimo sei passato appunto da fare solo cose sul web a grandi cose televisive. Penso alla cosa che hai condotto insieme ad Andrea De Logu una giornata in cui c'era il Papa proprio a San Pietro. È stata quella la prima grossa cosa televisiva che hai fatto da presentatore, da comico? È partita tutto da Sanremo l'anno scorso. Mi arrivò questa proposta da TikTok cioè l'app proprio che era a Sanremo e avevano questo progetto con i De Giaca al famoso gruppo comico di Daskalier che trovi su Wikipedia il famoso gruppo comico attivo dal 2013 sul web viene a fare questa cosa qui e poi se vuoi fare dei tuoi contenuti e io dico va bene ma perché non faccio propongo a TikTok ragazzi faccio un contenuto al giorno dove intervisto le persone fuori da Sanremo perché mi hanno detto voci di corridone mi ricordo chi neanche guarda che fuori Sanremo c'è di tutto c'è il personaggio che è il circo sì è un po' il circo ecco hai detto tu no no perché lo volevo dire io lo volevo dire io sai che ci sono un sacco mi seguono mi seguono quelli che stanno fuori da Sanremo mi seguono probabilmente probabilmente no io lo dico con grandissimo rispetto perché chi magari non è mai stato a Sanremo non lo sa però è vero che nei giorni Sanremo è una città meravigliosa portando a questo posto posto meraviglioso anche quando non c'è il festival come tutta la Liguria dirà come tutta la Liguria e viva la mia Liguria come dice come dice Elisabetta Canaris assolutamente è bellissima però nei giorni del festival si trasforma e quindi diventa un palcoscenico non solo l'Ariston per tutti coloro che fanno imitazioni i sosia eccetera bravo i sosia sono pazzeschi i sosia i personaggi vestiti in modo folle ecco personaggi assurdi assurdi cioè se andate a Sanremo durante il festival vedete il sosia di Pavarotti anche se Pavarotti non è più vivo lui comunque c'è è lì sicuramente il sosia di Adriano Celentano il Gabib c'è di tutto io ho incontrato l'inventore del risvoltino lui ha detto che ha fatto causa a Dior l'ha fatto causa a Dior ma scusami come ha fatto a inventare lui cioè è un po' come se uno dicesse ho inventato il modo di bere l'acqua chi siamo noi per dire che lui non è l'inventore del risvoltino io dico adesso denuncerà anche noi probabilmente sicuro eh io mi dissocio questa cosa qui l'ha detta lui ma no io io mi assumo la responsabilità maestro che lo dimostri che lo dimostri come fai a dimostrare è difficilissimo come fai a diri che non è stato lui cioè vai a registrare il marchio quando sei davanti alla signora che registra i marchi dici allora guardi io registro questo gesto qui questo sarebbe incredibile sarebbe bellissimo quindi vai lì per TikTok inizia a fare queste interviste vado lì per TikTok faccio cinque giorni dove intervisto le persone in giro era una cosa che avevo fatto ma ne avevo fatta una soltanto in discoteca perché mi divertiva io grandissimo fan di Piff da sempre perché secondo me è stato uno dei precursori del linguaggio web grande fan di Boris di quel linguaggio un po' che scardina se vuoi sai ci sono delle strutture che tu vedi come idilliache no? e poi magari le vedi dall'interno e sono terribili un po' il cinema l'ha fatto Boris e quindi mi piace tanto entrare in contesti un po' istituzionali e raccontare il sottobosco perché in tutti i contesti fighi no? c'è questo sottobosco incredibile e quindi allora che faccio? vado a Sanremo intervisto tutte queste persone pubblico i video vanno benissimo e in uno di questi giorni incontro Andrea De Logu facciamo uno sketch insieme che mi invento sul secondo e a lei piace un sacco allora il giorno dopo mi chiama e mi dice vieni a Rai Radio 2 facciamo un'intervista io vado lì ricordo che mi stavo cagando sotto perché c'era il glass praticamente lo studio in mezzo alla piazzetta la strada davanti al teatro che diventa una sorta di piazza dove tutti hanno gli occhi ora vado lì faccio sta cosa va bene iniziamo a parlare cinque giorni dopo il giorno del mio compleanno me lo ricordo mi chiama Andrea e mi dice senti Gabri ciao ti va di fare tonica che era il suo programma che ha fatto su Rai 2 in seconda serata vieni fai degli sketch li scrivi tu li scriviamo insieme e ne parliamo vado un giorno lì giriamo questi dieci sketch in tre ore e lei super felice io molto di più anche perché ho scoperto essere una conduttrice incredibile Andrea è pazzesca è proprio brava in tutto poi ha una sensibilità molto giovanile no è molto così americana no cioè ha delle non è comunque scontato che vedendoti lei in lei si accendesse con la lampadina nel dire lui è uno figo anche che lei non fosse non che ne abbia bisogno sia chiaro però che non fosse gelosa perché tantissime volte in questo mestiere c'è grande gelosia cioè quando vedi magari uno della nuova generazione anziché aiutarlo ti viene voglia di dire ma quello lì cosa vuol fare invece questo dimostra è una cosa che hai sensazione a volte no mi è capitato due o tre volte di non averla questa sensazione una di queste è Andrea ma perché secondo me tu sai di essere cioè sai quello che sai fare no e dici aiutare un'altra persona coinvolgere altre persone può soltanto che giovare al contenuto non ti toglie nulla che sia stato io la persona che sono stata coinvolta me lo chiedo ancora perché cioè mi domando cavolo ma di base magari c'è qualcuno anche più bravo di me non lo so cioè se ancora non sono arrivato alla consapevolezza di dire cavolo mi ha scelto per questo anche se magari l'ho chiesto e mi dico ah perché sei bravo però non non riesco a focalizzarlo perché magari guardo intorno e dico cavolo ma anche quello è bravo cosa qual è la differenza ecco ancora a quella consapevolezza non ci sono arrivato vabbè insomma Andrea faccio questa esperienza bellissima ho detto vabbè sarà finita qui e il programma insomma è andato bene e viva mi chiama due o tre settimane dopo a un mese da Pasqua e mi dice senti ti va di fare questa cosa una mattina non me lo scorderò mai ti va di fare questa cosa insomma è una cavolata però avrei piacere di farla con te in piazza San Pietro presentiamo questo evento del Papa c'è Blanco ma si sta robetta che cazzo mi stai prendendo per il culo comunque hai citato il Papa e hai detto una parolaccia a cacchio e questo non si può no non si può non si può non si può io no io no non si può allora dico aspetta che ho detto no no che ho detto hai detto cazzo no l'hai detto tu l'ha detto lui cioè io sono stato influenzato dal fatto no dico cioè è stata è stata un'esperienza incredibile adesso mi ricordo che ho detto però no questa cosa mi impanica perché io ho avuto io ti racconto questo aneddoto dal Papa sono stato avvicinato da probabilmente i servizi segreti del Papa e perché cazzeggiavo così dicevo parolacce sai le cose le classiche cose che facciamo noi giovani noi giovani per divertirci per sentirci giovani dire parolacce fare allusioni alle bombe alle esplosioni in piazza San Piero non è una cosa molto racconta ho detto cacchio ma mi cacciano allora arriva questo signore e mi fa tu sei Gabriele faccio sì tutto vestito di neri occhiali neri sembrava uscito a men in black un po' un po' fuori forma per essere davvero uno dei servizi segreti però chi siamo noi per giudicare magari il papa non ha persone che gli corrono dietro è lentissimo più che altro noi con la nostra fisicità non possiamo giudicare un bodyguard cioè non sappiamo cosa vuol dire tu mi vedi così ma un anno fa io molto più muscoloso poi il covid sì che è tre anni fa cazzo devo dire il covid è in ritardo però e insomma che succede tu sei Gabriele faccio sì fai un video per mia figlia io poi arriva uno da dietro che si spaccia di essere il cuoco del papa io sono il cuoco del papa lui è uno dei aspetta cosa ha detto uno delle guardie di sicurezza personali del papa non so se l'hanno detto per impressionare probabilmente erano due erano dei so non c'entrava niente erano dei so se di Sanremo niente quindi io faccio sto video ma mi sono cagato addosso insomma quindi io sono molto attento a quello che dico vicino alla parola papa perché secondo me è un algoritmo che gli arriva tutto sì gli arriva tutto quindi anzi in questo momento gli voglio molto bene ma no assolutamente di qualcosa a Francesco ma no ma assolutamente di qualcosa di bello pensa noi prima di continuare di qualcosa di bello ma è che un papa meraviglioso un papa meraviglioso per non usare sai quelle banalità che si dicono il nostro papa eh no però però ci siamo salvati in questo podcast abbiamo se abbiamo toccato non andare non andare non andare non andare che è un attimo mannaggia a me che ho detto hai detto guarda che è un attimo non esci più da sta cosa qua te li trovi sotto caso io te lo dico noi abbiamo però intervistato in questo podcast qualche puntata fa che secondo me è una delle puntate il papa no purtroppo no però il pilota di papa Wojtyla cioè colui che pilotava l'aereo del papa e vabbè a parte questo momento promozionale di un'altra puntata dentro la puntata con te cosa molto irrispettosa quindi fai quella cosa e hai la possibilità di salutare il papa cioè tipo di stringergli la mano allora questa è una cosa che mi chiedono tutti e io devo sempre raccontare questa cosa che sembra irrispettosissima quindi dopo aver detto cazzo vicino al papa racconto questa cosa irrispettosissima cosa succede io avevo il treno alle 8.05 ed era l'ultimo e giorno di Pasquetta a Roma non c'era un posto dove dormire cioè non c'erano posti a meno che non pagassi tipo 4.000 euro di suite negli hotel certo non mi sembrava il caso insomma abbiamo aspettato il più possibile poi uscire da San Pietro per arrivare fino a termini quando c'erano 100.000 persone sì non è proprio una cosa immediata quindi dovevamo partire un'ora prima purtroppo alle 19 rotti ancora non era finita l'omelia e quindi io sono dovuto scappare poi dopo Andrea l'ha salutato e purtroppo mi rimarrà questa cosa in eterna anzi spero di rifare questa esperienza anche perché non ho mai detto parolacce vicino alla parola papa infatti non so se dopo questa intervista questa puntata dell'ostagista succederà però no 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 ci sta no e quindi non sono riuscito a salutarlo ma era una cosa un'esperienza al di là della fede poi era un'esperienza unica no per me che arrivavo dai social essere in un luogo penso in un luogo più istituzionale del mondo assolutamente forse al pentagono dovrei fare no però forse per quello che rappresenta quindi ero molto felice soprattutto ho acquisito un sacco di credibilità in calabria dopo quella cosa lì perché tua mamma mia mamma ha tipo smesso di dirti quando è che ti trovi un lavoro vero ti giuro che è vero non si può ecco vedi mi so bruciate ho detto ti giuro no questa è una cosa che non si può dire non si può dire perché non si giura comunque immagino che questa felicità di tua mamma si è aumentata ancora di più quando da qualche tempo sei nel cast fisso di Vivarai 2 che è il ritorno con un programma quotidiano in televisione di Fiorello voglio chiederti come è stato il momento in cui ti ha chiamato per chiederti di entrare a far parte del cast del suo show ma c'è stato un pre a Fiorello come è venuta la storia perché è arrivata Fiorello grazie a un'altra cosa che è successa perché questa cosa del papa va abbastanza in sordia nel senso che non è che mi chiama Fiorello per il papa mi chiama Fiorello perché perché io faccio il terzo conduttore a Love Me che è questo concerto di Fedez e J-Ax organizzato quello della scorsa estate esatto dove sono tornati amici poi basta poi non sono più visti penso non lo so e ti sei nimicato pure Fedez che sono oh ma sto bruciando tutti 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 no scherzo no a parte questo cosa succede io conduco il pre e conduco faccio l'inviato nel pubblico lui vede questa cosa qui e casualmente lui legge sempre i giornali legge l'intervista che esce sul Corriere pochi giorni dopo devo fare un altro rutto cioè è una roba terribile sta cosa qui cioè perché io non sono una persona poi così scurrile no certo assolutamente uno dice vieni qua a rutt ma che legazione è no ma il problema è che tu li preannunci sempre cioè se non facessi l'annuncio ma perché se no sembra che mi tengo così sembra che ho qualcosa sto male ad essere qui devi guarda l'undicesima puntata questo è l'undicesima di qualcosa interessante di qualcosa interessante no che all'undicesima puntata ho capito che quando magari devi tossire o eh cioè ma il trucco è più o meno è fare tipo allora alla dodicesima puntata ritornerò niente quindi cosa succede lui vede questa intervista dal nulla mi arriva questa chiamata numero che non conoscevo rispondo ciao sono Fiorello ho detto vabbè dopo il papa vi faccio un altro scherzo del cavolo di qualcuno nota che ho detto cavolo cavolo perché sono una persona educata giusto è un altro scherzo del cavolo non è Fiorello anche perché poi al telefono fai fatica davvero a riconoscere la voce di una persona io mi scambio sempre per una donna al telefono quando chiamo il call center mi dico salve signora quindi io faccio fatichissima a capire chi è beh in effetti è vero anche le persone che conosciamo strette quando ci parli non è mai uguale figura di Fiorello io dico sempre che ho questo effetto topolino nel senso che le persone che vedo così lontane da me tipo il papa cioè quando le vedo da vicino dico vabbè non esiste è tipo topolino una cosa irrealistica e invece era Fiorello e la Fiorello mi fa senti sto facendo sto facendo questo sto pensando ancora a questo programma restate avrei piacere che tu facessi l'inviato andassi nelle scuole insomma vai in giro e fai quello che ho visto visto che fai hai fatto una cosa simile a Sanremo e ho detto cavolo ha visto i miei video cioè è pazzesca sta roba pazzesca pazzesca perché lui è uno super aggiornato è super sul pezzo sempre sul pezzo guarda tutto c'è tantissimo una persona poi vabbè è successo sono successe tante cose nel frattempo io avevo sempre questa essendo arrivata così presto questa chiamata il programma sarebbe partito a novembre a ottobre e novembre mi aveva pronunciato la mia sensazione era sempre cacchio adesso mi taglia è impossibile che da novembre si concretizzi esattamente è così bella questa cosa che mi taglia per forza cioè dirà vabbè tornando al pessimismo di cui parlavi all'inizio sì perché sono sempre pessimista poi cerco di non farmi castelli come quando sai dici tua madre ti prometteva che ti portava al parco tu eri felicissimo di andare al parco e poi non ci andavi perché pioveva e ti cadeva al mondo addosso lì volevi solo morire da picco otto anni dice io penso al suicidio sto pensando di farla finita otto anni perché non va al parco quindi dico no non lo dico nemmeno a mia madre cioè arrivo a questi livelli ma per mesi non gliel'hai detto io l'ho detto zero lo sapeva soltanto la mia ragazza e le persone che lavorano con me che per forza dirglielo insomma poi si concretizza questa cosa lui è assurda sta cosa che lui mi teneva informato cioè io ero l'ultima ruota del carro probabilmente lui mi teneva informato su tutto cioè ti scriveva ti chiamava cioè io in lui ho trovato un'umiltà che dico lui è il numero uno oggettivamente quello che fa io sono cresciuto con il mia madre quando doveva farmi un esempio di una persona che poteva fare tutto in tv o dici è un grande mi diceva Fiorello quindi dico una persona così che non ha bisogno di me per fare il programma mi tiene informato un'umiltà nel parlarmi nel raccontarmi degli aneddoti dico cavolo quello è l'artista cioè quello è il professionista non quelli che vedi che sono proprio scocciati di fare il loro lavoro lo vedi poi sono antipatici ecco lui è una persona sembra di parlare con mio zio ormai e quindi è stato proprio bello questo percorso fino a novembre di mia autoflagellazione dire di silenzio assoluto novembre parte il programma io vado a Roma lo conosco ed era con l'effetto lì l'effetto topolina perché ma quindi esiste quindi sei veramente tu cioè davvero Fiorello mi ha chiamato a me ma com'è possibile sta cosa qui e mi diceva che in chiamata poi in quella famosa chiamata d'estate mi diceva che gli ricordava un sacco lui da piccolo è un grandissimo complimento è enorme immenso quando lo lanciavano in mezzo al pubblico no e dicevano fai questo e lì dovevi essere bravo in 30-40 secondi a svoltare la situazione lui dice che ha visto questa cosa qui e quindi è un complimento gigantesco e poi è partito tutto e adesso vi varai due insomma sta andando molto bene andando molto bene grazie a lui grazie a me ecco lui ha una cosa che tanti non hanno è molto autore di se stesso ha delle persone con cui lavora che sono bravissimi però ha molto la visione di insieme cioè lui lui fa principalmente il comico il presentatore il conduttore comico però riesce a dare delle linee guida anche su delle cose più serie delle narrazioni più di cronaca magari perché alla fine quello che faccio un po' il giornalista io dico sempre a me fa un sacco ridere perché è un po' borat questo giornalista al contrario e invece quando ti chiamano per le interviste che è una cosa che tu fai molto bene ti chiamano l'Enrico Lucci 2.0 è una cosa che ti fa piacere ma sai la veri questa somiglianza ma per me Lucci è stato un grande no cioè è un grande ancora adesso sono cresciuto un po' con i suoi servizi ho lavorato anche con io mi sono ritrovato a lavorare in un progetto web con il suo autore storico e questo autore mi ha insegnato molto a livello di narrazione in cioè proprio di racconto per strada ecco parlo come real life la chiamo io no cioè quando va a fare un video con degli esseri umani non scritto e e quindi quel racconto lì me l'ha passato molto lui però è un po' il mio atteggiamento no cioè io quando vedo una persona che si esalta si ci mette in mostra cioè io di mio di indole devo per forza prenderla in giro cioè non ce la faccio capito perché mi imbarazza questo comportamento di non lo so sovraesporsi dire guarda la cosa di marca guarda come sono vestita bello quella roba lì mi fa troppo ridere a me e invece però io ti ho visto in un contesto qualche settimana fa qualche mese fa la festa di tv sorrise e canzoni in cui tu eri lì per il programma di Fiorella a fare le interviste ai VIP e ti ho visto intervistare con questo tuo stile molto irriverente eccetera personaggioni cioè io mi ricordo di tu che sei lì che mi dici ah Phil sto cercando Albano non so dove sia dopo trovi Albano lo vai ad intervistare e mi chiedo come fai a mantenere in quel contesto il sangue freddo con Albano e soprattutto avere quella cazzimma di andare lì e magari prenderlo anche un po' in giro ma allora di base lì capita il contrario no cioè non è il cretino che si mette in mostra è il personaggio che sa stare al gioco e purché tu non lo insomma non lo picchi non lo prendi o fai il maleducato ma non è il tuo caso maleducato se ci scherzi insieme ecco io ho questa cosa che riesco ma già di mio in generale nella vita proprio con le persone mi piace metterle a proprio agio e anche anche se scherziamo insieme riesco a metterle a proprio agio e quindi niente lì è molto cioè ci sono arrivato all'inizio ero un po' impallato cavolo ero proprio ingessato poi col tempo sono riuscito ad avere la faccia di culo ma perché alla fine la domanda che mi faccio prima di partire di andare dal bano di turno è cosa può succedere di brutto cioè cosa posso perdere niente quindi capita se non dovesse riuscire magari diventa una cosa non riuscita però non è la morte di nessuno non posso rifarmi capita che si prendono male qualcuno capita ti è capitato di qualcuno che ti mettesse un po' in difficoltà sì che vedi vedi proprio che sono a disagio ma perché sono loro proprio persone magari che non riescono a stare a proprio agio nelle situazioni o la vedono un po' lontana poi gioco facile perché dico fiorello e tutti sono pronti lì a partecipare ma non per qualcosa di strano è perché proprio l'unica persona che si fa volere bene e tutti oggettivamente dicono cavolo è un professionista e quindi è molto rispettato e quindi questa cosa mi aiuta molto in quei casi lì quando non sono col microfono di viverei due ma faccio i miei contenuti è successo che magari qualcuno si prende male vabbè anche se vado in giro con le persone insomma non in situazioni come tv sorrisi e canzoni qualcuno si prende male anche perché magari pensa di fare l'intervista seria e invece poi sì sì magari scatta quella cosa però ci sta insomma fa parte del gioco e ascolta Gabriele abbiamo parlato di comicità italiana hai parlato di fiorello di quello che stai facendo sei da poco tornato dall'America indossi una bellissima maglia di SNL questa l'ho messa apposta Saturday Night Live non è di certa passata inosservata e quindi so che in quei giorni sei andato a vedere un po' di leccio americani di cose quali sono le cose che ti hanno colpito di più delle cose che hai provato a rubare che secondo te chi vuole fare il tuo lavoro dovrebbe un po' rubare da quel mondo lì ma allora intanto che gli americani c'è questo grande sono molto più bravi di noi secondo me non è vero no ok cioè semplicemente sono un po' più sperimentano un po' di più ma perché possono farlo no perché parlando in inglese se una cosa dovesse andare male la vedono cento milioni di persone e non come in Italia che la vedono magari duecentomila e mettono in difficoltà chi l'ha creata quella cosa lì quindi di base questo poi sai è pazzesco cioè tutto molto esagerato in America no quindi vado vado a vedere Seth Meyers il late show prodotto da NBC mi pare sì grande Seth che è quello che va in onda dopo Jimmy Fallon dopo Jimmy Fallon e lui è ho visto lui praticamente è un grande professionista nel senso che arriva lì fa questa cosa filata senza sbagliare una virgola e la cosa che mi ha impressionato di più è che in un contesto così esagerato no questo studio pazzesco cento persone che ci lavorano pubblico super gasato avessero i gobbi che praticamente sono quelli che i suggeritori perché lui fa un pezzo da penso 15 minuti filato che chiaramente è scritto che chiaramente è scritto lo fanno con i gobbi scritti a mano cioè c'è uno sopra la telecamera si mette come se si mettesse sopra la telecamera che fa che toglie sti fogli proprio le cose di carta sì di carta ho detto cavolo sta cosa è pazzesco strano no cioè dici potrebbero comprarselo uno di quei ci sono anche in Italia come si chiama teleprompter sì teleprompter come quelli che hanno il telegiornale o in Italia che c'è lo schermetto sopra la telecamera ed è tutto digitale ma pensa questa cosa qua ho detto cavolo pazzesca più che altro pensa che bicipiti o tricipiti non so la differenza cioè o meglio non so esattamente non li allena particolarmente non ce li ho quindi posso non saperlo io lo so bene di quello lì che sta lì per un'ora di monola potrebbe essere bravo anche a toglierle nel momento giusto pazzesco sì 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 è pazzesco poi sicuramente sai senti queste risate sempre incredibili nelle cose americane io quando dicono cavolo ma o in America hanno sicuramente hanno una comicità diversa dalla nostra certo il pubblico è molto aiutato cioè ecco forse lì ma in generale ridi perché vai per ridere in Italia c'è un po' la cosa che magari per farti ridere ti devo trasmettere per forza un messaggio comunque devo farti pensare o c'è quella cosa che ti analizzo prima mi fai ridere non mi fai ridere vediamo mentre lì ci può essere anche il monologo che è dichiaratamente per far ridere va bene così vai lì per ridere cioè vuoi ridere ecco c'è una cultura anche comica diversa ma perché è culturale non dico che è meglio per esempio danno i late show fanno fatica cioè Fazio che è il nostro late show non è molto late show americano no io dico sempre l'ho detto anche in altre puntate per me Fazio è la miglior trasposizione all'italiana di quello che è un late show ed è un programma che è successo proprio perché non strizza l'occhio a tutto quello che provano a fare gli italiani che copiano i late show americani perché siamo guarda ti dico una cosa che mi ha detto una persona che tu conosci bene che è un tuo collega nonché un nostro amico Mauro Cascari maestro grande Mauro Cascari che lavora cioè io lavoro con lui aveva Rai 2 il grande Mauro dice questa cosa è uscita in altre puntate sto ripetendo cose che ho detto in altre puntate chiedo scusa chi ci sta guardando e cioè che proprio la comicità è diversa anche solo per il fatto che gli americani sono anglosassoni noi siamo latini ci fanno ridere altre cose e quindi già questo ti impedisce che un late show qui sia una cosa da prima serata una cosa grossa puoi mai dire mai io ti auguro ma no ma sai che la nostra generazione magari possa non lo so cambiare le cose non lo so non lo so perché poi tanti dicono vabbè la nostra generazione è diversa sai che siamo cioè io vedo alcune cose no che proprio si ripetono cioè magari cercando di dici cambiano i mezzi però più o meno è sempre quella cioè la roba magari è fatta in modo diverso no è fatto in modo nuovo aggiungendo dei particolari ma perché chi lo fa non ha 50 anni 60 anni ma ne ha 21 però sono cose che si replicano sempre cioè delle cose che vedo oggi che funzionano ho capito perché me l'hanno fatto notare persone più grandi dicono guardati questa cosa qui è praticamente una roba che era già stata fatta sì cioè per esempio mi hanno fatto notare Chiambretti proprio Fiorello mi fa notare questo questo programma di Chiambretti complimenti per la trasmissione e ti giuro che sembravo io cioè adesso è un insulto per Chiambretti però era molto cioè mi piaceva perché era una cosa che avrei potuto fare io ed erano determinate atteggiamenti che magari avevo molto interessante questa chiave di lettura che io non avevo mai visto perché Chiambretti non lo conoscevo sotto quell'aspetto no essendo ignorante sul piano ma anche per motivi generazionali essendo un programma che magari andava venendo da tanti anni fa degli anni 80 sì e quindi dico cavolo conoscere la storia di qualsiasi cosa che fai ti aiuta tantissimo perché vedi anche alcuni programmi che funzionano adesso che sono copie di rielaborazioni sì rielaborazioni copie sbagliato bravo rielaborazioni di cose che funzionavano in passato ma è giusto così insomma si cambia si evolve ma le strutture sono quelle di una volta insomma e senti Gabri quella è una passione che hai che nessuno conosce che non fai mai vedere sui social che non racconti mai ce ne sarà una cioè non la posso dire no scherzo no 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 che si possa raccontare a parte dopo tutto quello che abbiamo detto oppure fosse una cosa che non si può raccontare no no dici no no vabbè adesso sembra che mi drogo ma no adesso sembra che mi drogo magari fai magari fai pilate se ti vergogni di dirlo che ne so no 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 a me piace molto ma io sono uno a cui piace molto parlare nel senso mi diverto uscendo con delle persone parlando mi piace mi piace interagire con le persone qualcuno potrebbe dire particolarmente le donne uno malizioso no no con tutti con tutti anche perché sei felicemente ride dietro fa ridere perché sembra che stia dicendo una cosa ma no ma anche perché da quel poco che ti conosco sei pure felicemente fidanzato sono felicemente fidanzato speriamo tu lo sia ancora quando uscirà questa puntata perché ho detto questa cosa spero la mia fidanzata non guardi un'ora di podcast lo spero io nessuno la guarda no no speriamo di no ok quindi chiacchierare quindi mi piace tanto uscire con la gente parlare avere soprattutto dopo il covid e ti piace più frequentare gente che fa il tuo stesso lavoro di questo ambiente o sei di quelli che la propria cerchia di amici la riducono insomma gli amici che fanno tutt'altro non dico compagni delle elementari però amici con cui che non sanno nulla del tuo lavoro sicuramente dei compagni dei compagni compagni dei amici che mi porto magari dalla prima seconda media quindi conosco da una vita sicuramente qui a Milano fai più fatica ho dei amici che non fanno questo lavoro qui sicuramente sono persone a Milano chiunque fa un lavoro che è creativo sì che è creativo per esempio un caro amico che ha una discoteca e quindi ecco è sempre portato a pubbliche relazioni non che faccia il PR però comunque magari ha contatti con artisti cioè è una persona che sa di quello di cui parlo magari amici che ho in Calabria non parliamo proprio di questo mondo no è bello avere queste variazioni e poi mi piace tanto sicuramente viaggiare una cosa una cosa pazzesca tipo adesso a New York era la prima volta che andavi a New York sì secondo me ridono ancora per la cosa delle donne io lo dico perché si stanno contenendo posso dirti che in undici puntate non li ho mai visti così coinvolti non so che cosa che effetto gli stia facendo vabbè cazzo sta cosa sulle donne dopo la parolaccia vicino a no Santo Padre ma no parolaccia Santo Padre vicino però non non devi sottolinearla ogni volta perché questo non migliora la situazione no allora non la sottolineo faccio 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 cioè non sottolineare che hai detto una parolaccia poco carina vicino a una parola no questa questa me la prendo come consiglio perché non dico più che insomma ho detto una parolaccia vicino a Santo Padre infatti in attesa di rivederti sì no qui sta dicendo non posso dirla stacca non posso dirla allora allora ci facciamo una chiacchierata tra di noi se non puoi dire ormai la dici io ho detto che ho piacere parlare con le donne sto dicendo in attesa di rivederti in Vaticano magari tra qualche mese speriamo no adesso sono serio è una cosa che ti auguro perché giuro che non vuole essere ruffianeria sai la stima che ho per te per quello che fai visto che hai citato consiglio la parola consiglio vorrei che mi raccontassi un consiglio che per te vale tutto che ti è stato molto utile che ti ha dato Fiorello perché sicuramente te ne avrà dato qualcuno ma la cosa sicuramente ma ogni volta che ci vediamo mi dà dei consigli no poi nuovi sicuramente è lavorare tanto sulle sulla diretta cioè sul live sul teatro che è una cosa che cioè se tu parti dal teatro di base parlo di comici o persone che parlano non attori insomma non me ne intendo poi puoi fare tutto il resto partire invece dal web da una persona che comunque si registra e poi decide cosa tenere e cosa no giochi facile invece quando sei in diretta devi pensare già a quello che devi dire dopo è più difficile ecco mi ha detto di lavorare tanto su quello e ti piacerebbe fare teatro tantissimo tantissimo teatro inteso come esibirti dal vivo stand up banalmente come è chiamata oggi il monologhista insomma i monologhi tantissimo mi piace scrivo tanto non ho mai io ho pochissima memoria ok infatti non mi ricordo che ho detto vabbè magari troverai qualcuno la parloccia che ho detto al santo pano non mi ricordo te la ricordi però magari troverai qualcuno come Seth Meyers che a teatro ti tenga le carte ti immagino farebbe molto ridere insomma questo e poi di credere tantissimo nelle cose che dici cioè se non ci credi nelle cose che dici se inventi qualcosa le persone se ne accorgono e quello è una delle cose cioè cerco sempre di raccontare la realtà magari a volte un po' smussata ma parlo in generale anche negli sketch esagerata però se racconti qualcosa di finto le persone se ne accorgono e lì perdi chiaro sono ottimi consigli non so se lo sai ma ogni puntata dello Stagista Podcast si conclude con una grande tradizione e cioè ti farò una domanda che ti ha lasciato l'ospite della puntata precedente senza sapere che ci saresti stato tu dopodiché tu ne scriverai una per chi ci verrà a trovare la prossima settimana e non posso dirtelo se no questa cosa ti influenzerebbe sì sì è uscita la scorsa settimana quindi adesso sembra uno che non ha guardato no vabbè perché cazzo un'altra figura terribile quante sono? tantissime terribile allora l'ospite della puntata precedente ti ha lasciato una puntata ti ha lasciato una domanda incredibile secondo me cioè Harley intesa come la moto o BMW la macchina quali delle due rappresenta al meglio il tuo modo di vivere la vita sai che non me ne intendo assolutamente è una domanda molto bella e filosofica della serie no no io non conosco proprio le macchine e le moto le Harley e David sono non so andare neanche in bici sono delle moto no so adesso sembra un cretino no no allora Harley è un po' freedom no? è quello? BMW invece è fighetto sì e credo che nell'Harley ci sia anche un po' di difficoltà comunque è una moto scomoda da rifammi la domanda perché mi ricordo solo Harley e BMW non lo ricorda manco lui Harley o BMW come ha cambiato il cartone se non si ricorda le domande tra l'altro l'ospite che non nominerò per rispetto però la scritta cioè tipo non è un medico però è un po' come se lo fa ok dice quale delle due è più quale delle due rappresenta il tuo modo di vivere la vita ma penso adesso una panda vuoi dire nel dubbio ma penso sai che direi una panda una panda ci sta bene su tutto comoda tranquilla va ovunque la panda nessuno ha mai tantissime aspettative dalla panda perché è una bellissima macchina però non ha una carrozzeria incredibile come me vedi nonostante qualcuno mi possa conoscere come playboy affermato insomma sex appeal poi è una cosa che c'hai io ce l'ho certo non mi permetterei mai di dire il contrario io ce l'ho ecco nonostante io sia un famoso sex appeal mi paragono alla panda esatto è stato no 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 è una risposta io dico che mi stanno schernendo ti piace questa parola schernendo è molto sofisticato dico che mi stanno schernendo sex symbol ma anche letterato in tutto questo tu mi reputi un sex symbol assolutamente sì grazie assolutamente sì è stato un grande onore questo te lo consegno perché dovrai scrivere posso scrivere la domanda vai sì dopo dopo adesso faccio vuoi scriverla adesso in tempo reale no no chiudiamo ok dopo dopo chiudiamo è stato un grande onore essere l'ostagista per un giorno di un grandissimo sex symbol e cioè Gabriele Vagnato spero tu ti sia divertito metti delle voci di donne che fanno wow ti prego vediamo cosa potranno fare Gabriele Vagnato signore Sidiari no perché se no mi rovini questa cosa sex symbol se non c'è una delle donne che dicono ma lo sei lo sei assolutamente grazie io sul quadernino a parte gli scherzi è stato bellissimo essere qui è stato molto piacevole passare quest'ora e zero nove sì con te veramente no sei stato pagato per dirlo no non sono stato pagato però è stato molto bello molto piacevo molto perché poi parlare ti fa conoscere anche te stesso dopo questa chiudila 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 tu che devi dire piuma la pasta che ti fa conoscere Grazie a tutti